Per pescare i cefali un'esca molto economica e semplice è il pan carré. Basta infatti bagnarlo per pochi secondi, togliere l'acqua in eccesso schiacciandolo tra le mani e si ottengono così delle stersioline che possiamo letteralmente avvolgere sul lamo. Funziona bene anche con altri pesci come occhiate, saraghi e salpe. Per pescare i cefali un'esca molto economica e semplice è il pan carré. Basta infatti bagnarlo per pochi secondi, togliere l'acqua in eccesso schiacciandolo tra le mani e si ottengono così delle stersioline che possiamo letteralmente avvolgere sul lamo. Funziona bene anche con altri pesci come occhiate, saraghi e salpe.